nido rispondi è andato tutto a puttane ci siamo rifugiati in un castello ma ora ho perso aquila reale nido ti sto perdendo mi ricevi cazzo non va più salve a tutti ragazzi e bentornati a mic show show siamo tornati con resident evil 4 questo è il capitolo 8 e voi non mi vedete e direte mic ma dove sei è mattina presto sto distrutto voglio sprofondare sulla mia poltrona perciò ho detto ma perché non farlo vecchio stile allora no questa è un'eccezione tranquilli però stamattina mi sentivo ispirato deciso di far così anche perché vi assicuro che non è un bello spettacolo ma nell'ultima puntata abbiamo perso l'aquila leare capite perché non l'ho messa il gatto e il topo e l'elefante non manca più nessuno solo che siamo intrappolati in questo castello dove qualcosina indietro abbiamo lasciato ma non possiamo prenderla davanti abbiamo un'infinità di nuovi tesori ma soprattutto ci abbiamo una plaga una infestazione come si dice come in italiano plaga come si dice c'è una nuova minaccia davanti a noi e leon che ne aveva vissute già di tutti i colori a ragun city adesso di male in peggio mamma mia lascia perde guarda e non me vedi e non me vedi dunque ragazzi cerchiamo di riprenderci la nostra aceli che è nel pieno dell'esposizione al parassita insomma sembrerebbe quasi che questo essere questa plaga abbia preso possesso della ragazza o meno ci è riuscito per un breve periodo di tempo abbastanza da sfuggirci giubbotto tattico ragazzi con tutti quei soldi me lo metto poi per il resto potrei potenziare questo fucilozzo però sono abbastanza sicuro che tra un po' ci arriverà qualcos'altro e dunque sapete che succede ragazzi oh matilda la pistola che abbiamo sentito quella che spara tre colpi consecutivi si è tipo un tappo da mettere in bocca perchè mamma mia mi hai rotto le scatole va bene va bene ragazzi qui rimango ancora un po' così questa sarebbe buona però cioè ho cambiato da poco la pistola avevamo detto di puntare tutto su questo aumentiamo pure la cadenza di vidro si mi piacciono quelli che se stanno zitti andiamo ragazzi dai tra l'altro una cosa che mi chiedevo ma poi credo di essermi risposto da solo ma ve la dico lo stesso sto un po' avanti rispetto a voi quindi molto probabilmente voi avrete anche trovato la soluzione a questo enigma o l'avrete scritto nei commenti io ancora non sono riuscito a leggerli guarda qua ma ah ok sono statue oddio pensavo fossero veri oh no sono veri o sono statue? no sono statue guarda ragazzi stanno pregando un uomo piegato con la testa insettoide eh eh una plaga come che diavolo è dai Leon ma fino a mo' a combatterli eh vedete ragazzi stanno chiaramente adorando quello schifo no 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 questi erano ma che stanno mummificati vabbè quello che vi volevo dire io era questo eh perché Serra era sì imprigionato lì dove stavamo noi ma allo stesso tempo eh Mendes il capovillaggio ha inserito la plaga solo dentro a noi non a lui però poi dopo abbiamo visto che lui è stato tipo operato ci ha fatto vedere che c'è un modo per eliminarla bisogna essere operati quindi probabilmente lui già cioè se vieni curato poi dopo boh te la scampi basta una volta questo non lo so eh perché stava lì dentro un sacco eh eh poi ci siamo risvegliati che eravamo legati ci avrà legato sicuramente Mendes però a noi ci ha infettato e a lui no e in più lui sta a fa mezzo del doppio gioco una cosa un po' strana la voce della pestilenza tirmora nelle fiamme conducendo anime miserabili alla salvezza riponi le fiamme cremesi nel luogo appropriato affinché tu venga illuminato il percorso svelato ah Glorious a las Plagas vabbè andiamo ragazzi di certo la cosa aspetta 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 ragazzi quello c'ha proprio uh ma sa che devo prendere quel coso lì Glorious a las Plagas scusate il disturbo scusa immortale immortale ah ok ok fatto di nuovo ragazzi c'è lo sfarfallio lì sotto che palle ho oh suplex ma che stai un pazzo ma chi sei i Brock Lesnar ma 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 Glorious a las Plagas mi ne faccio un altro no calcio devo dire che è molto meglio il calcio ah nietta bello questa tecnica del mobili dove il numero non conta eh dove il numero non conta però sei un po' un po' lacciano sei non muore gli ho messo letteralmente un coltello in testa vabbè vabbè resta l'altro va dai Leon vabbè però Leon sei 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 un pupazzo sei fai i suplex qua e là poi guarda che pupazzo sei se questi ti vogliono abbracciare eh si è sfettuccia saccagnata saccagnata hai usato hai usato ecco ho finito tutti oh non muoiono ragazzi questi adepti sembrerebbero molto più forti dei dei cittadini del villaggio eh me me stuccherei un po' d'erba aio eh vabbè allora siete proprio ancora se faccio sta cosa nella cantina buia dove noi ecco la lanterna crema sì grazie signore respiravamo piano oh ragazzi col calcio è molto preciso preciso a parte qua c'era un sacco di roba da poter fare esplodere forse ce la potevamo giocare in una maniera un po' più soft vabbè va bene oh yeah oh mio ah niente non non vedo camminare in una valle verde guarda pure coi tacchetti ah no sono morti sono morti calma di Mike calma anche questa poteva poteva saltare in aria ma per mia miopia non ce l'ho fatta oh cribbio no sa che goduglia se gliel'avessi fatta cadere in testa allora vediamo qua ragazzi si vedete ah la lanterna cremesi che guida la mia via ah siamo tornati indietro ci siamo aperti uno shortcut ah no abbiamo bisogno non si apre abbiamo bisogno di Ashley dove sei quando serve allora aspettate torno indietro salvo il gioco e ricarico ragazzi perché quello sparfallivo mi triggera troppo allora ragazzi guardate un po' non so se notate la forma di Leon un po' diversa ho messo tipo la spunta su aumentare i dettagli dei capelli di Leon non so se cambierà effettivamente qualcosa in game ci devo far caso quando monterò il video però insomma l'ho spuntata magari questo potrebbe aiutarmi con questo farfaglio lì sotto in teoria no non muovere un muscolo Leon oh 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 non vuoi che usi questa vero dopo ben sei anni questo è il saluto che mi merito Ada non sembri sorpreso interessante il coltello è meglio per il corpo a corpo una bella mossa davvero di classe perché stai lavorando stavolta oh Leon lo sai che sono riservata da bravo sottone dimenticala è spacciata in ogni caso se vai via adesso chissà forse ci rincontreremo potrei darti quel saluto che desideravi credi mi arrenda così facilmente giusto rimandiamo la conversazione un'altra volta ti va tra altri sei anni magari guarda come segretamente è contento l'ultima persona che mi aspettavo qui si ma diciamo guarda come gli batte il cuore al signor Leon però diciamo che è stata una conversazione un po' così quanta roba è aperta allora per chi non sapesse che abbiamo davanti lei è Ada Wong un personaggio fondamentale che ci ha aiutato stravagante non poco negli eventi di Resident Evil 2 che poi sono quelli dove abbiamo conosciuto lì forse guarda là una pietra litografica se vi ricordate è un gioco che potete recuperare c'è tutta la serie anche quello remake vabbè vabbè fatta ve l'ho parlato tutto ma che che vabbè fatto sta Leon a un certo punto si era innamorato di Ada sembrava addirittura che fosse corrisposto no perché pure Ada ma c'è stava sembravamo tutti belli e felici fino alla fine e invece no perché in realtà Ada era semplicemente una doppio giochista inviata lì per recuperare un campione del virus e questo virus lei è riuscita a recuperarlo effettivamente noi però pensavamo fosse morta e questa cosa ragazzi è stata piuttosto aspetta un attimo allora questo io direi che va qua ah ok ok easy no easy un cazzo aspetta così oh ok perfetto vi dicevo noi pensavamo fosse morta no Leon pensava fosse morta tant'è vero che avete visto se vi ricordate l'inizio del gioco proprio quando parla Leon dice che lui è tormentato da quello che ha vissuto devo trovare Ashley ma a 360 gradi non solo dal punto di vista della pandemia insomma tutto tutto quello che era successo con a Raccoon City ma pure per quello che aveva vissuto poi dopo con Ada ma secondo me Ada stava facendo finta di essere nostra amante sono abbastanza sicuro anzi no sono sicuro ascolta il segnale del lego attraverso le montagne le rocce diventano chiaia le mure del castello si fatentumano guarda l'ombra cremesi del cielo notturno un fiume di sangue infetto deturba il mare sacrifica la tua vita e il sangue del tuo nemico fai ammenda per i tuoi antichi peccati ah ho capito un cacchio ah 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 allora oh si 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 grandioso oh ah oh vabbè però insomma sono un po' deluso perché non si sono detto di niente alla fin fine aspetta c'era qualcosa andiamo ad aprire quel cassetto chiuso e stiamo dando qualcosa gli ho detto semplicemente per chi lavori adesso eh no non te lo posso dire ah vabbè ciao ma facciamo un cavolo pensavamo fossi morta cavolo ma lei Leon è veramente un disastro con le donne sì effettivamente Leon è un disastro con le donne ah orologio da taschino che spoco vabbè però capire perché Ada sta qui non sarebbe male hanno detto che mi hanno ricercato le lambra eh no 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 amici miei no no amici miei no amici miei no amici ma io gli sparo con la magnum te lo dico no io ti sparo con la magnum porco scherzo non è morto porco scherzo no 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 amici miei il nostro viaggio termina qui eh se ci stanno pure stesse stesse schifezze no il mio viaggio termina qui cioè vanno bene i lombrighi tu sei sempre ovunque frate ma è impossibile benvenuto come posso esserti utile benvenuto nel mondo del domani allora guarda mi vendo un po' di roba questi me li potrei già vendere ragazzi forse è arrivato il momento di farlo mi dispiace tantissimo ah aspetta aspetta che l'orologio stravagante deve essere pompato qui pompa nelle casse mentre mario monti pompa nelle tasse andiamo a fare il nostro lavoro oh aspetta chi è che ride ah eccolo povero gabbiano povero gabbiano va bene e giochiamo povero gabbiano hai perduto la compagna questo gioco non ha segreti per me oh vabbè ragazzi si sta lo fanno lo fanno mi stavate aspettando mi stanno aspettarsi questi questi ergumeni scusate non sono morti incredibile ah no il 2 no 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 il mago guarda guarda che schifo guarda che schifo aspetta 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 salta giù salta no 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 ti devi fermare ti devi fermare queste cose non le accetto so di una gravità so di una gravità incredibile non muore rieccola oh via 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 c'è via c'è portacci tua wow mazza come aggressivo eh pesitas c'è rea tot su oh no 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 non muore non mannaggia te questo senza un braccio ok ragazzi la strategia è una sola è quella di colpire prima e lo spider man è la ok non promette bene non buono non buono non buono bello ah ma è il gigante sta diventando una vera lattura di coglione eh eh certo certo lì perché guardate ragazzi stiamoci qua sperando che non si distrugga via andiamo di là ok toto oh more rich c2 bravo apri 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 noi dobbiamo passare da di un bastione all'altro bastione no bastione eh ah ecco qua era qui era qui sopra dove ho ucciso i tipi io prima ero lì sotto bello grande abbiamo fatto bene a venire qui ammeraldo va bene a volte che allora non credo di riuscire a ucciderlo quello là ragazzi però vedete c'è stava il povero gabbiano che aveva perduto la compagna wow dentro dentro ok vediamo un po' eh vabbè ragazzi qualche qualche scrigno magari mi rimarrà indietro io però devo passare di qua ah di qua ragazzi scendi però ok ok bisogna passare dall'altra parte mettiamo che il tipo ci lanci i tuoi sassolini ecco fatto ecco fatto vabbè dai aaaaa eh godo 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 sì io sì sì ma questo mi tira a me le cose sta bella ingrifato no non mi doveva prendere eh porca cazzozza eh me nascondo qui dai dai ma non mi può prendere no ragazzi inutile che gli sparo tanto non può morire questa è proprio una scelta boom nell'occhietto proprio nell'occhio marò no no signore signore si è inventata eh qua ce la siamo inventata eh però ragazzi a sto punto ciucciamoci questa recuperiamo un po' di salute è il nostro momentum è il nostro momentum vai Leo 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 oh gli spariamo col cannone mmm marravo un cannone speriamo che funzioni ma i cannoni funzionano sempre no allora su su giù andiamo andiamo a sparare vamos a ganar su ecco impossibile impossibile guarda qua bam su black city però ragazzi mi sbaglio questi si trasformano un po' meno in quelle placas bella signorina dammi una mano signorita mi sto a dimenticare qualcosa oppure no sì abbiamo fatto veramente tanto tanto bene a prendere le nuove armi ragazzi tanta roba tanta roba grazie a te che sei svegliata no mi sarei presa colca dove stai ecco di boom sfacciato no no non è finita non è finita no io non ti non ti lascio uscire via da lì adios io non busso ragazzi sono un uomo che non bussa aperto al transito devo dire ragazzi che a livello di battute siamo messi veramente male va veramente 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 molto male alla fine ragazzi dai qualcosina è rimasto indietro ma la maggior parte ce la siamo presa tanto i soldi si fanno abbastanza semplicemente in questo gioco dubito che io abbia lasciato indietro qualche arma ecco fatto questo sembra che c'ha l'armatura dei natskull o comunque dei i cattivi del signore degli anelli mi spiace ma ne ho avuto abbastanza bene in tutto questo ragazzi ashley dove mi inchia sta cioè il solo pensiero che lei sia arrivata fino qua da sola mi sembra un po' difficile no possa già fa io ragazzi vedo un corvo io sparo ashley dove sei vedo un altro corvo farò pure l'altro corvo non c'è problema ashley che ti devo dire sta qua sta qua sta qui lei arriva da qui da sola con la forza delle emozioni e vene varigose e guarda che vene sto vascolarizzato devi andare avanti possiamo farcela insieme non so se ce la faccio ce la fai magari avverti prima di accoltellarmi ancora Leon grazie pregata però il problema è uno solo ragazzi che in teoria il signor Sadler potrebbe darci degli ordini no come ha fatto con gli altri non è semplicissima la situazione vabbè luis dove sei scusami ho fatto un casino vieni a salvarmi il principe azzurro come no verrò a cavallo andiamo in sala da ballo dopo il cortile vieni a danzare con me è buono serra è buono che tipo assurdo beh non possiamo abbandonarlo va bene dai riprendiamo il nostro viaggio speriamo che serra si riveli insomma un inutile alleato però per quanta roba mi stanno droppando credo che sia arrivato il momento ragazzi il momento di menare un po' le mani vediamo che possiamo fare si 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 mi stanno droppando troppa roba ragazzi porco giuda per i cani se vengono porco due fermi i cani mi amano ti amano morte beh ma è così il cagnolone ero venuto qui a cercare un un treasure mi sono ritrovato coi cani vabbè porco due cani basta dai 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 lion vabbè però lion ragazzi cioè non c'è un'animazione che ti permette di no cioè di smettere di carica l'arma eh no ma che cazzo ero oggi eccolo in alto che non ti cani ti devo dire ti devo da dire vieni coca vieni coca torca matosca ho mai messo una paura mortacci tua ma aspettavo un vabbè vabbè non faccio battute vabbè tanto l'avete capito no mi aspettavo e invece è arrivato un cane ha ha mike sei in forma oggi te dico una scacchiera elegante se continuiamo così ci svegliamo domani ragazzi ma lo devo mettere qua su e sparare porca zoccola in realtà credo che questo cioè mi permetta di salir lì su per vedere com'è l'andamento del del labirinto ma non è un problema nel momento in cui c'hai eh c'è una mappa fermi totos allora forse lì eh sì allora lì dovevo tirare la leva hanno lo stesso stemma dei baratheon ah quindi i salazar erano dei baratheon un tempo e voi ragazzi se non sapete chi sei baratheon eh vuol dire proprio avete avuto una vita difficile eh cioè va bene resident evil però i connuti i connutacci i connuto c'è i connuto per venire è meglio che curare lui è è immortale il cane immortale ho visto guarda facciamo subito ambress ambress come dicono a milano eh no eh no eh no e devi da sta fermo lì ci posso andare quindi bisogna andare a chi a tirare la leva la lueva vai tutto fatto muovi le kele a destra muovi le kele a sinistra intanto ragazzi canto queste canzoni vai game ahì e sta ahì e stamos corri in dovere ecco lì ecco lì arrivati arco disco sta dietro ce l'ho dietro proprio dietro ce l'avevo giuro ogni tanto ho in testa queste canzoni che mi ascolto qua a tele da bambini porca no no ora questo aspetta ok cioè proprio ti entrano nel cervello tu non puoi fare niente altro che le placas però questo è il corri in mia direzione ci penso io ti sparo una chiappa acchiappamolo boom ma si è fomentato a fasti suplex con me come oh finalmente ragazzi siamo entrati nella parte quella tranquilla del gioco giusto la sala da ballo sarà di qua no no muoviamo su allora dritta del mercanto si adesso posso fare delle modifiche davvero incredibili le due armi canteranno ancora più forti vediamo un po' che fa questo oh finalmente possiamo andare pure a sparare benvenuto ho delle novità solo per te amico allora intanto novità qui c'è questo siamo invecchiati ormai c'è poco da fare si ma io non ho più pepite ragazzi se questo non mi dà missioni secondarie allora l'estensione per la valigetta ecco la modifica qual è che praticamente abbiamo sbloccato nuovi livelli la matematica non è un'opinione bisogna un attimo dar fuoco alle polveri ragazzi soprattutto per la pistola e il fucile a pompazza pistola sicuro quindi prendiamo ste 45 brinde questo qui è un lavoro di fino straniero ed eccomi tornato ragazzi è un giorno nuovo ma per voi non cambia niente quindi se non ve l'avessi detto ve ne sareste accorti penso proprio di no è questo il bello di non utilizzare a camo tra l'altro sono andato al mare oggi vuoi dire dove è marzo eh ragazzi sono stato costretto no vabbè però scherzi a parte eh sì sono stato al mare sto distrutto quindi adesso sprofonderò sulla mia poltrona ma noi dobbiamo continuare dobbiamo raggiungere il nostro amico Matteo Matteo Serra certo il ragazzo di guidonia no il nostro Luis Serra che ci ha chiamati ma io prima ragazzi distruggo questi medaglioni blu perché ho un urgente bisogno di spinelli ma non quelli che pensate voi ma quelli che mi servono per andare avanti con lo sbloccaccio delle cose ma soprattutto dobbiamo scoprire i segreti della villa esatto senza testa che no senza due tre teste perché ho una chimera il fantomatico mostro con la testa di leone capra e serpente a proposito di chimera ragazzi uno dei giochi più belli dove c'era una chimera da battere per me è stato Dragon's Dogma un gioco sempre di capcom tra l'altro bellissimo bellissimo i ratti hanno infestato un'area del castello oh no elimina tutti i ratti corridoio centrale biblioteca vediamo un po' dove sta questo è il corridoio centrale tra l'altro qui ragazzi vedete c'è un passaggio che ci porta velocesimamente qua Dragon's Dogma ragazzi era fighissimo perché tu ti creavi la classe con il personaggio andavi a combattere i nemici c'era la chimera tra le varie cose tu ti potevi proprio appendere ai nemici ah ma vabbè l'hanno ripreso 1500 altri giochi capirai non era una novità però quello era bello io mi ricordo che avevo iniziato con l'Archer Mago che classe è non lo so neanche io l'Archer Mago prendi un'armatura puoi usarla come giubbotto antiproiettili un po' fuori moda per i miei gusti peccato penso ti starebbe molto bene ma che c'è stai a provare Ashley ma che c'è stai a provare ti posso dire una cosa Ashley ma secondo te dopo tutto quello che è successo uh godo come nessuno cioè se non mi stai a giocare mettite la cosa oh la testa del leone aspetta ragazzi io mi costruisco un po' di munizioni perché sto veramente a pezzi ci spariamo pure questa appena possibile solo che farsi le munizioni da soli del fucilozzo questo qui e del pompa soprattutto è una sfremuta di sangue perché la miseria ole sì lei resta lì che sì oh beh porca miseria non ci posso credere eh non ci posso credere no ma che davvero ma che schifo è c'è il la ferma no è sì eh lo colpisci eh vabbè colpisco ma poi ci metti una giornata ma che schifo è dai dai Leon ma no ragazzi ma che schifo è ah no si è digi voluto aspetta posso fare la mossa del jaguaro tiè no no cazzo sbagliato dove usa quest'altra questa è la mossa del jaguaro si godo vedi vedi loro però aspettate ragazzi ma potrei anch'io un po' subire la potenza del della luce perché anch'io mi sto per trasformare ok apposto ah no apposto un cazzo sì però lì ha un set sbrighi porco zdo ah ma hanno fatto il panino tu prendi questo e perché e perché che diavolo sta succedendo il fuoco delle lanterne vabbè allora oh spinelli spinelli come se non ci fosse sono domani spinelli come se stessimo a san lorenzo oddio ah ma son tre oh aspetta brava brava lancia il sasso e nascondi la mano allora sarebbe ragazzi con questo gli elevo il coperchio giusto si poteva utilizzare meglio il fuoco Ashley ragazzi usiamo il nostro bonus ole easy peasy si si buonanotte cavalieri cavalieri quanto c'ho la tele che mi sta a pushare la stanza dimmi vabbè dai tutto è bene ciò che finisce è bene ah ti devi buttare e sto capito aspetta un attimo fammi vedere se stiamo a lasciare qualcosa ole e io brucia brava o leva quella ok vabbè saranno tre prove credo simili per sbloccare le tre teste eh lei è tutta contenta no un dispositivo cubico fammi vedere un po' che è sta roba è una roba importante coi bordi di ottone che è signori miei stiamo attenti eh e non lasciamo niente al caso ma non è che era qua la biblioteca colitore centrale no armeria no 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 non lascio indietro tutta sta roba brutto segno ecco fatto oh signore non son degno di partecipare alla tua mensa non si apre ovvio oh eccola qua la capra non ci dovremmo andrà mai dritto non si sono accorti di niente credo che stiamo nella stanza del signorotto no ecco qua no quello lì quello dobbiamo far fuori ragazzi no cazzo siamo circondati eh lo so che siamo circondati quello dobbiamo far fuori ragazzi il tizio con la maschera da capra ma non te ne andai lui evoca ok è morto arco 2 ok boni 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 e vabbè come ho fatto a lisciare col fucile a pompa da lì torna qui mamma mau ragazzi sapete perché lo dobbiamo buttare giù perché quello lì bello bello perché quello lì riesce a evocare i come posso dire i parassiti li rende più forti no dai lascia beh manca a offenderlo così però eh no cazzo aspetta aspetta no che che mi ha abbracciato no Ashley sono stato io scusa ho stato io con l'utrattore scusateli 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 ho un forastero aspetta che do un calcio un po' a tutti che fai mi spingi come ti permetti tutto bene si 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 sbiiiigate no ragazzi mi si è rotto mi si è rotto il giubbetto ma sto giubbetto l'avevo pagato un casino a viasagno ok avete visto l'ho fatta bella pulita devo dire però è la seconda serie back to back dove becchiamo un salasar eh dopo salasar salpeverde vabbè due serie che non si possono paragonare ragazzi diciamo questa è un po' più chill è alla lasciami stare grazie per il berillo rosso ma però è Giovanni Pascoli Fino a mo' a piangere perché oh lì ho una scusa ma come ho fatto sono una stupe mo ah ah progessi ah ah sono topolino mi pare cosciuta e pensate che nell'originale era pure peggio nell'originale era peggio perché in momenti come questo ragazzi dovevi stare lì a traiardare con lei che andava in giro faceva una rompischia bella tutto questo dentro i vasi tutto questo dentro i vasi eccoci siamo arrivati ecco il topo sta a dire qua mancano i topi due su tre me ne manca una una sala da pranzo mangiare qui no grazie vabbè ma non manco mi pare una una sala di tutto rispetto ora il fatto è qual è la discriminante cioè un posto a sedere rispetto all'altro che cambia ah forse quello apparecchiato bene deve essere intanto ci prendiamo questo finito ah ecco la regina deve stare qua e il re deve stare col bottiglione no è questo il mio ok è questo è questo cling long ci siamo riusciti ci siamo ci siamo certo ok solo mi manca un sorcio ragazzi aspettate spero che dietro questa porta ci sia un sorcio ah ok mi sa che lo devo fare prima oh un forastero vai come non scappi ma ti abbiamo letteralmente detto ma ti abbiamo detto aiuta Leon no way no way non ci abbiamo ovviamente nulla assolutamente niente dobbiamo fare la parte stealth ragazzi no ok bene illumina davanti ma mai dietro perché il mio buco d'uscita deve rimanere sempre buco d'uscita non diventare mai buco d'entrata guarda come cammina tic tac tic tac eh c'hai delle chiappe veramente allenate eh stavo vedendo sperando che non si non spaventarmi così no eccolo il sorcio l'ho sentito è un foglio strada per il masuale o nascosto gli archivi sì gli antichi avi rispondono all'ora prescelta se cerchi la benedizione del signore abbi coraggio affronta l'oscurità e qual è l'ora prescelta forse troveremo un documento che ce lo fa sapere perché così è un po' difficile trovare l'ora prescelta abbiamo bisogno di una chiave eh certo invece eccola qua mazza da chiave potrebbe essere una buona idea non farsi beccare no ti prego eh ma se illumino davanti mi becca no torco due no c'ha tre eh quale uso no quella giusta eh questa no cazzo però come fin questa questa ok ok scusate scusate ci sono andato un po' eh ma ci sono andato Leon e adesso e adesso si attaccava al tram oh però guardate le mani come sono venose e nere questa si sta per trasformare ragazzi lei subisce di più rispetto a Leon il passare del tempo secondo me perché immagino cambi da soggetto a soggetto vediamo che si inventa allora lo stemma la chiave per uscire da questo maledetto posto è lo stemma della famiglia Salazar per trovarlo devo avventurarmi nel mausoleo sotterraneo che è infestato da quelle dannate armature nota frettolosa 1104 orologio forse eh forse eh forse è forse e 4 ole ho un momento di dubbio ma poi si era così dalle 11 si di sotto però mi chiedo ma io basta che lo punto e non ci stanno problemi vero vero infatti immaginavo li blocco ragazzi li blocco perché questo fuoco blu non so perché li blocca fermate ah beh a parte ragazzi che in ogni caso noi sappiamo che queste bestie cioè questo schifo sono deboli sono deboli alla luce quindi diciamo si fuoco fatuo fuoco blu fuoco non cambia niente c'è comunque luce è un grosso fascio di luce e gli può da fastidio sicuramente allora sono le 11 e 4 no non ci sta più l'armatura lì occhi occhi ok ragazzi stiamo entrando nel mausoleo spero di trovare anche la chiave quella lì quadrata perché se no ho lasciato indietro un sacco di roba poi lei non spacca manco le cose a parte le palle ovviamente capirai guarda pepuscio pepuscio checo ma io li puscio tranquillo ragazzi anzi quello davanti blocca tutti gli altri vediamo speriamo si 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 è pieno di fuoco oddio però è pieno pure infatti è pieno pure d'armature lasciami stare indietro felloni qua bisogna sparare per aprire ragni serpenti come faccio lei c'ha qualcosa per tirare ah no c'è ecco 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 fatto ok 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 tranquilli signori miei perpecio long porco due me so salvato fatto 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 beh velocissimamente ciao ciao ragazzi ci vediamo prossimamente oh no c'è quello dorato alla fine c'è il dorato c'è pure l'occhio rosso pensieri svegliere amica dai che te pare porca cazzozza mettiamole nei posti giusti questa sta qui stamente vai e poi la luna nera la mezzaluna di qua e la luna piena al centro va bene super easy super easy super easy però insomma oh lo stemma gli stemmi ah no è lo stemma dietro va bene la stemma dei barateon stemma salazar no 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 non spegnetevi ancora non ce la faccio più eeeh pensa che dobbiamo correre ragazzi si sono spenti le luci signor dorado non si svegli grazie eh ma coacciati che ma coaccio qua ok fate i bravi e non muovetevi ok che c'è in mano questo te lo so che devo fare lo stelta eh mi sa che conviene cazzo faccio lo stelta ok orco due apri Ashley acciacca acciacca ciao stronzi addio orco due svegliate Leon te prego svegliate svegliate asli stai bene si un attimo ti tiro fuori ora ti tiro fuori tieni prova questa riesci a scendere ti prendo io si forse si eh si gli fai sai che gli fai a questo solletico è un gormito capitolo terminato scopriremo di più nel prossimo video ragazzi fatemi sapere che ne pensate io vi do appuntamento alla prossima che sarà di nuovo senza cam ve lo dico ciao